Per quanto riguarda invece il flamenco, eccoci ad un'altra forma di flamenco, l'allegrias. Il nome la dice già lunga su quello che è lo spirito di questo toque. Un toque che si distingue per le sue qualità ritmiche molto accentuate che si fermano su accenti particolari, il 3, il 6, l'8, il 10 e il 12. Tanto da far sembrare spesso squadrata questa sequenza che ripetuta nelle misure genera un poliritmo assai interessante. Al suo interno una parte chiamata silenzio rosa e poi una parte chiamata escobiglia che dà il là al lavoro dei ballerini nella danza. Farcelo ascoltare Paolo Canola alle Palmas, Eva Duero. Paolo Canola alle Palmas Paolo Canola alle Palmas, Eva Duero. 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 Grazie a tutti.